Musica Musica Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, questo è un video workout dove io e Sara vi facciamo vedere gli esercizi fondamentali o propedatici per riuscire a fare una verticale. Vi annuncio già che in alcune parti l'audio non è proprio perfetto, ma io e Sara ci stiamo già attrezzando con dei microfoni per cercare di risolvere questo problema. Questi video hanno uno scopo di essere informativi, quindi condividere con voi delle informazioni tecniche, visto che Sara è molto tecnica, però non hanno lo scopo di darvi delle routine, delle schede di allenamento, perché uno sono allenamenti scritti su di me, sui miei obiettivi, sulla mia persona, sulla mia fisicità e quindi non adattabili ad altre persone. E anche e soprattutto perché Sara fa questo di lavoro, quindi non sarebbe proprio giusto nei suoi confronti. Quindi spero che il video vi piaccia, fatemi sapere se volete vedere qualcosa di diverso, non strettamente legato alle trazioni e alle verticali. Non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Allora, iniziamo con un po' di mobilità per le spalle, quindi passovers, ne facciamo dieci, tocchi dietro e tocchi avanti. Buono, stop, ok, elastico, vai, braccia tese dieci, ok, controlla il movimento. Dieci, stop, va bene, panca, abbraccio attesi, palmi delle mani verso l'alto, quindici, ok, schiacci in giù, stai lì, tre, due, stop, ok, riscaldamento finito. Va bene, adesso iniziamo a lavorare. Va bene, adesso iniziamo a lavorare. Bravo, 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 bravo. Senti pure. Come è? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Ma dici bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Sì. Ok, ora terminati. Allora. Salvo. Bravo, c'è insieme. Senti, non fa, ma non c'è insieme a lavorare. Senti, non c'è insieme. Senti, non c'è insieme. Viro, viro, viro. Viro, viro, viro. Viro, viro, viro. E scendo, controllando. Allora. Allora. Facciamo, facciamo, facciamo. Va bene. Fa bene. Facciamo un 5 per tolto. Ok, allora. L'ultimo. facciamo la parola per perdere la schiena buono 5 3 2 3 7 8 9 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 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 17 16 17 17 18 20 20 17 17 18 18 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 21 23 23 27 28 28 30 29 30 22 23 24 25 25 25 26 26 28 28 28 29 29 30 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 per vedere stretto perché tutti i finali sono insieme e quindi si inforga anche questa parte qua poi guardano le pesantine sulle spalle quindi qua ci viene anche quello come nel ritorno parto da terra appoggiata la cosa difficile è staccare subito il sedere quindi non devo sedermi ma devo stringere gli addominali che cosa sempre ok e scendo piatta quindi stringo il sedere e stringo gli addominali ok quindi quello da non fare è questo e mi tiro su ok o se no sbranciare quando lo scelto ho scelto me come allenatrice potevamo non dire sempre addome addome everywhere addome sarà una costante ok proviamo da qua poi vediamo quindi alzi il sedere e ti tiri su con le braccia vediamo se Silvia riesce a staccarsi da terra ragazze guardate guardate ce la sta facendo dai 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 su 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 dritta tutte in piedi in piedi normale ok adesso la discesa cerchiamo di curarla quindi scendiamo piatte vai ok ok va bene piano eh ci sei quasi arrivata e giù perfetto quindi thruster poi dopo andando avanti vedremo come arrivare qua con i manubri eh però adesso iniziamo da qua gomiti alti faccio uno squat e quando salto salvo anche con le braccia quindi squat e su quindi salto insieme e scendo insieme salto insieme e scendo insieme allora le braccia seguono la linea delle spalle e la forza parte sempre dal sedere dalla spinta del bacino ok proviamo allargherai un po' i piedi e su più esplosiva col bacino ok fanno ancora due esplosiva col sedere ultimo stop ok quando scendi devi come far cadere il peso sempre tenendo la postura e quando sali dai forza eh perché se rallenti la discesa fai più fatica però andava bene va bene quindi parti da terra e la prima ce la faremo una così ok adesso la faccio un po' veloce così poi quando non ce la fare più piedi un po' le gambe quindi ti spingi con i piedi quindi piedi un po' con le gambe sali arrivi sempre dritta e scendi ok quindi ne facciamo cinque dopodichè andiamo al thruster e ne facciamo dieci la corda va scendendo di uno e il thruster va salendo di due ok va bene vabbè 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 sono qua il thruster va il thruster va il thruster va e il thruster va ci siamo di brutto ci siamo di brutto ancora quattro sui gomiti vai vai brava due buono dai silvia ultimo stop buono buono brava sai cosa dimmi dimmi ma infatti quello devi regolarti tu in base a quanto senti male però va bene finito l'allenamento degli esercizi più o meno base no non base è brava non base se lo dice lei bene speriamo che il video vi sia piaciuto grazie e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao